Il convegno festivo partenopeo si conclude con un handicap a resa di metri per quattro anni, quattro i concorrenti partenti allo start, cinque i penalizzati, quindi due file. Alli che si apprestano ad uscire dal pistino interno. Dinamite Bonest, il più veloce all'uscita dai nastri, attaccato da Dodi De Glatigne. In terza posizione Daniele Leone, ricuce il gap Deilov-Dipa e punta in avanti. Dinamite Bonest si oppone a Dodi De Glatigne che voleva il via libera. Corre davanti Dinamite Bonest, Deilov-Dipa si ritrova terzo allo steccato. Squalificato l'1 d'Arsco Guida, primo quarto ultimato in 29,9 dal figlio di Oropuro Barre Rania Robb che adesso riduce il ritmo e permette agli inseguitori di avvicinarsi. 600 metri in 45 e 3, si viaggia a media di 1,15 o poco più. Dettare i ritmi Dinamite Bonest lo segue da vicino Dodi De Glatigne, poi Deilov-Dipa e Daniele Leone. Un minuto e sette decimi di 800 muove a largo Daniele Leone che si trascina Davide ma trova l'anticipo di Deilov-Dipa e finisce con lo sbagliare. Daniele Leone, primi mille metri in 1,15 e mezzo. Deilov-Dipa aggancia Dinamite Bonest in testa alla corsa, poi Dodi De Glatigne si avvicina a Davide. Frazione sostenuta in 15 e spiccioli in curva, Deilov-Dipa pariglia completamente Dinamite Bonest quando mancano circa 700 metri alla conclusione. La rottura di Deilov-Dipa, 14 e 3 gli ultimi 200 metri, rimane davanti Dinamite Bonest. Adesso prova ad avvicinarlo Davide, lo raggiunge all'imbocco della piegata conclusiva. Davide è filato da Ded del Ronco, poi anche David del Ronco. Sta passando Davide quando i concorrenti stanno per entrare in retta d'arrivo. Davide è attaccato da David del Ronco e soprattutto Ded del Ronco. Ded del Ronco e Davide alle prese, Davide di dentro, Ded del Ronco a largo, insiste Ded del Ronco. Lotta serrata alla quale si aggiunge anche David, ma sul traguardo probabilmente Ded del Ronco. riesce a prendere la meglio su Davide, terzo posto per David del Ronco e quarto posto per Dinamite Bonest, che davanti non corre bene. sul mio cronometro 2.29.8 che va tarato, molto di meno per Ded del Ronco, il figlio di Varenne, Tiffany Gar, carta super. Team Minopoli al training alla proprietà, Mario Minopoli Junior alla guida. Certo, terminano vicino, per cui non do alcuna sentenza, ci pensa il giudice d'arrivo, ma dal mio punto di osservazione Ded del Ronco in prossimità del palo è riuscito a mettere il musino davanti al pur valido Davide. Terzo posto, vedete, per David del Ronco a contatto e quarto posto per il numero 2, Dinamite Bonest. Buona serata a tutti.